Dovrebbe essere una bella soddisfazione per lei che ha curato la comunicazione vedere gli ottimi risultati di Made Expo. Cosa ne pensa? Beh, sono non contento di più, perché tutti gli sforzi che abbiamo fatto sia come ente organizzatore ma soprattutto, forse per la prima volta, visto che è il secondo anno, tutte le aziende hanno fatto e hanno contribuito a far crescere questo Made. Tutte le aziende quest'anno, forse per la prima volta, hanno creduto in questo evento e hanno fatto una comunicazione interna loro, ai propri clienti e al loro mondo della progettazione fantastico. E questo ha portato questo risultato che è estremamente positivo. Di cuore me l'aspettavo, sicuramente, perché sapevo della bontà del progetto e soprattutto della convinzione delle aziende che fanno parte di questo grande gruppo, di questa grande famiglia di Made Expo, perché è diventata ed è nata veramente una famiglia unita di Made Expo e questo ha fatto un successo non indifferente, perché il successo dell'evento e della fiera lo fanno le aziende, perché promuovono l'evento in una maniera importante. Promuovendolo come l'hanno fatto loro, il risultato è questo. Quindi è un merito anche delle aziende, soprattutto. Chiaramente, supportato da questa grande promozione e pubblicità che abbiamo fatto, il risultato non può essere che positivo. E ci dobbiamo preparare a migliorare ancora di più, perché possiamo fare una terza edizione ancora stratosferica. Stratosferica, perché il nostro obiettivo è quello di raggiungere alcune fiere europee che ci stiamo effettivamente avvicinando sempre di più e questa è una bella cosa. All'inizio, quando abbiamo fatto Made, ci siamo andati a cercare di essere la medaglia di bronzo. Prima c'era una fiera in Francia importante, in Germania importante, poi la facciamo diventare la nostra importante. Penso che dopo questo evento siamo già diventati medaglia d'argento, il nostro obiettivo è la medaglia d'oro. Se ce la mettiamo tutti, come abbiamo fatto finora, ce la faremo sicuramente. E questo è bello. Quali sono, secondo lei, gli sviluppi futuri della fiera e del mercato? I sviluppi futuri della fiera è crescere ancora di più. Secondo il personale parere abbiamo delle altre merceologie che possono entrare nella nostra famiglia. E noi siamo qui ad aspettarli. Mi riferisco, non so se poi dopo mi ammazzeranno o non mi ammazzeranno, mi riferisco al mondo delle ceramiche anche, che è un qualcosa di importante. Magari la prossima volta trovo le mine sotto casa di qualcuno di Sassuolo, ma non spero. Ma se qualcuno pensasse di avvicinarsi al nostro mondo, siamo qui con le braccia aperte. Noi siamo come la casa del Signore, aspettiamo tutti, il successo di tutti. Ecco, questo è importante.